benvenuti o bentornati sul canale di alessia lux questa volta spacchettamento passione unghie vi lascio il link dell'ultimo spacchettamento questo con gli agrigel bellissimi gritteratissimi ci ho fatto anche questa unghietta che vedete all'inizio oggi andiamo ad aprire un pacchetto passione perché c'era uno sconto e quindi ho approfittato e ho preso un sacco di cosette molto molto carine molto glitterose però c'è anche qualcosa che mi ha molto deluso quindi sarà un video in cui parleremo proprio dei prodotti questa è sempre la brochure che ci fa passione unghie insomma quando c'è una nuova dei nuovi prodotti ecco quindi vi fa vedere il night prep e il binder con le vitamine e questo kit che io non acquisto mai kit perché c'è sempre qualche colore che non mi piace allora se voglio un colore me lo prendo e basta ho voluto acquistare un pennello molto particolare perché volevo utilizzarlo per l'acrigel ma anche questo quando l'ho aperto oltre che il numero 8 non dovrebbe essere secondo me così grande e non lo so non mi ha fatto impazzire però lo proveremo lo testeremo anche perché una volta che stavo levando la colla comunque si è molto aperto come setole però non voglio giudicarlo insomma alla prima apertura infatti non riuscivo più a rimetterlo dentro al tappo scusate le bocette sottofondo ai miei figli e la piccolina che ha otto mesi adesso e quindi non lo giudichiamo e lo lascio lì perché non riesco a rimetterlo nel tappo poi lo utilizzerò insomma con con un prodotto per far chiudere un po' le sedole prima di rimetterle con il tappo poi come omaggino sempre ci sono dei glitter come sapete la nuova legge sui glitter che le considera microplastiche e le porterà a non venderli più quindi ho fatto un po' di carico di glitter questo è quello che ci hanno dato in omaggio che è un mix un po' strano perché c'è un nero dorato rosso c'è un po' di tutto dentro secondo me erano delle rimanenze e hanno fatto un mix carino ma non credo che a qualcuno potrebbe piacere un mix del genere ho comprato questo kit che mi sembra si chiama emerald e sono dei micro glitter i barattolini erano un po' leggermente aperti quindi è uscito un po' di prodotto assolutamente fini che penso che sia così il colore è meraviglioso e la finezza è eccezionale secondo me ci si può fare l'effetto zucchero l'effetto incastonato o qualsiasi cosa il colore a me poi fa impazzire questa normalità non ce l'avevo e anche il fucsia è qualcosa di meraviglioso e questo è un fucsia però con i riflessi olografici quindi vi deve piacere questo riflesso olografico ho dovuto cambiare insomma perché mia figlia piangeva anche il secondo kit risulta con i glitter un po' dappertutto e addirittura questo ha proprio una botta invisibilissima però vabbè può succedere sono scatoline questo mi è piaciuto tantissimo questi due colori sono proprio belli 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 ho questo argento bellissimo io argento proprio così un po' ghiaccio non ce l'avevo vi faccio vedere insomma i nomi e vi metto anche una piccola finestrella dove c'è proprio il nome sul sito poi questi sono i flakes questi sono sull'argento sempre olografico sono abbastanza piccolini e fini poi abbiamo questo questo è bellissimo sono dei flakes sottilissimi e qui c'è la pellicolina ecco l'unica cosa è che questa pellicolina sotto è appiccicosa quindi è una specie di scotch e questo scotch comunque fa attaccare moltissimi flakes e all'interno risulta un pochino vuoto devo dire la verità questo però sono molto molto belli quindi si usano bene insomma però vedete rimane tantissimo attaccato e il colore mi piace tantissimo perché poi ho preso anche dei flakes sul fucsia e non mi era accorta ma ce l'avevo già e va bene c'è un doppio tanto se andranno poi a non poter inviare più glitter o cose è meglio avere un po' di scorta questo copper è un po' troppo sull'arancione però stava un euro insomma l'ho preso perché comunque può sempre essere insomma da qualche parte può essere utile poi ho preso quest'altro tipo di colore che appunto vi dicevo questo è il fucsia senza l'effetto olografico quindi avete tutte e due le versioni se prendete tutti e due i kit vedete questo è proprio semplice fucsia punto e basta senza effetto olografico e questo oro è molto più caldo e più carico dell'altro che sinceramente piace più quell'altro però a volte serve anche un colore un po' più carico ecco e soprattutto se magari facciamo un effetto a strati magari è un colore più forte ci può essere utile ecco i flakes quelli sulla rosa rosa fucsia e ce l'avevo già però va bene comunque li useremo lo stesso e molto molto fini molto molto belli questo è detto qui c'è una carrellata infinita questi sono i miei preferiti gli orange holo flakes hanno sempre l'effetto holo appunto olografico fortunatamente qui lo scotch non c'è quindi sono subito disponibili senza dover alzare quello scotch fastidiosissimo e danno effettivamente sull'arancione come potete vedere orange però è talmente bello l'effetto AB per chi mi conosce da quando facevo le perline a me mi chiamavano Alessia AB pure lux insomma da l'idea di luminoso e quindi questi sono davvero da avere comunque in generale qui sono stata tipo due minuti a cercare il tappo appunto dell'holo flakes e niente vabbè stava lì sopra un altro barattolo sono stata tipo due minuti così con la telecamera che registrava ho tagliato il pezzo logicamente poi ho preso una riserva di mandrino perché mi è caduto uno e soprattutto quello che ho diciamo fa un po' fatica a far uscire il cilindretto di passione unghie e quindi ho detto prendo il loro mandrino così sicuramente andrà bene con i loro cilindretti e infatti è stato così su questo qui riusciamo a metterlo e a togliere molto più agevolmente invece con quell'altro non riesco né a infilarlo fino alla fine né a toglierlo agevolmente ogni volta devo usare delle tronchesine per levarlo vi faccio vedere prima le scorte che ho preso ho preso il Crystal Rose della base HD Fiber che ce l'ho ma me la sono presa come riserva perché è uno dei miei preferiti più del Baby Pink perché il Baby Pink comunque divincola al colore se fai il semi permanente invece questo lo uso io come trasparente praticamente e l'altro l'altra riserva qui avete il QR code che potete scansionare vi porta direttamente al prodotto sul sito l'altro diciamo ricarica il Master Gloss ve lo faccio vedere un attimo aperto ma dopo lo utilizziamo insieme quindi ve lo faccio vedere anche mentre lo utilizziamo mi ci trovo davvero molto bene con il Master Gloss per ora non ho avuto nessun problema con questo lucido e neanche con la base HD vi faccio vedere insomma le indicazioni che ci sono sul barattolo come sempre e poi vi tiro fuori i colori allora iniziamo dal primo che è questo greyge e spero di pronunciarlo bene e dentro ricordatevi sempre che in questa versione di semi permanenti c'è sia il dichetto da attaccare sulla tip sia il bollino da mettere sopra che però come al solito come anche l'altra volta a me non si attacca perché è già polimerizzato, indurito e quindi si imbarca un po' diciamo e quindi si attacca momentaneamente ma poi si stacca subito praticamente e oltretutto qui non si vede neanche più il codice e non sta scritto da nessun'altra parte quindi non so che numero è non sta scritto veramente da nessuna parte vado a vedere anche sull'etichettina niente neanche qua quindi il numero voi dovete scrivere e voi lo dovete trovare e scrivere ecco l'ho trovato sta vicino al codice a barre il colore mi piace molto mi piace più dal barattolo che quando lo stendiamo perché ha dei micropigmenti poi li vedrete dopo quando faccio la stesura dei micropigmenti che sono un po' difficilini da gestire quindi vi fa un po' di striature però è un bel colore insomma poi volevo acquistare un bel bordeaux quindi cosa ho pensato di fare su passione unghie c'è un bellissimo filtro che vi filtra i colori in base a quello che vi serve quindi ho messo filtro bordeaux e sono usciti una serie di colori tra cui questi che ho preso che nessuno dei tre è bordeaux cioè proprio sono rimasta malissimo il red velvet da sul fucsia scuro il red rock da praticamente sul rosso spento antico quindi non ci trovo niente ha anche una punta di rosa ma ha anche altre problematiche che poi vi dirò allo spezzone dove stendo i colori perché uno di questi veramente è una schifezza tanto che l'ho cambiato perché ne ho uno di un'altra ditta poi vi faccio un video a parte che è identico e poi ho preso questo HD Elegance che praticamente da quello che ho capito fa anche da semi permanente rinforzato quindi andate direttamente di questo e fate il rinforzo come fareste con la base fiber per dire quella che ho preso però certo dopo dovete smontarlo tutto perché logicamente fa anche da colore molto coprente adesso li andiamo a stendere insieme io vi lascio comunque tutta la panoramica di tutto quello che ho acquistato fatemi sapere se è stato un video interessante se qualcosa già avete e vi è piaciuto se acquistereste alcuni di questi prodotti o li avete già testati e niente andiamo a vedere la stesura dei colori perché appunto c'è da dire molto su quello se volete lasciatemi un like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale siamo quasi 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 a 22.000 vi aspetto numerosi un bacione al prossimo video ciao da Alessia Lux ed eccoci qua stendiamo il grey che ho detto il colore non è bruttissimo però diciamo che questo effetto metallizzato non è proprio l'ideale poi stendiamo questo red rock ragazze proprio il flop del flop più flop che esiste su passioni un che ho provato a sbatterlo ho provato a girarlo ho provato a girarlo anche con la spadolina d'acciaio proprio a vedere se i pigmenti erano in fondo niente è proprio acqua colorata quindi proprio un flop di quelli allucinanti e quindi l'ho modificato vi metterò un video a parte perché sennò questo diventava veramente troppo lungo e qui ci ho fatto tre passate giusto per capire che colore era e me lo tengo anche perché comunque se mai dovessero cambiare la formula magari è un colore che devo dire non è proprio brutto però certo non lo faranno in molte e quindi già era brutto da stende quindi non si stendeva in nessun modo figuriamoci a tenercelo così quindi l'ho modificato poi andiamo a stendere questo HD che in realtà a me sembra proprio un colore cioè fare un rinforzo con questo tipo di densità la vedo un po' un po' strana però se loro dicono che si può fare per carità teniamocelo ma come potete vedere andandoli a stenderli uno vicino all'altro poi questo video ha voluto proprio che testassi questa piastrina dove ci sono queste tip che si attaccano poi vi parlerò anche di questo acquisto pazzo che ho fatto ho provato anche a ristenderlo perché a un certo punto ho pensato ma non è costeso lo stesso colore là sono andata a riguardare il video sono andata a riprendere i colori col tappo e niente sono identici praticamente quindi ancora secondo flop perché di il bordeaux non ce n'è manco uno i colori sono pressoché identici infatti vedete mi li guardo li riguardo dico ma avrò sbagliato io comunque a destra c'è l'SPCB che è l'Elegance HD e a sinistra c'è il red velvet quindi sappiate che se già avete il red velvet ma volete un semi permanente che potete fare il rinforzo dello stesso colore potete prendere questo cioè chiamatelo nello stesso modo allora a questo punto e lo chiamate se vi rinforzo perché se no così ecco io ho fatto un acquisto che mi sono trovata praticamente due colori pressoché identici vedete qualche differenza? forse dalla telecamera leggermente più scuro quella a sinistra ma è una cosa talmente impercettibile che dal vivo proprio non si vede e niente sono andata a stendere poi il master gloss così vediamo anche se vira il colore avendo comunque questo gloss un filtro UV e non mi è sembrato vado ad attaccare le etichette perché mi sono anche fatta le tip quelle sul sul cerchio quello girevole ve lo ricordate lo faccio vedere in praticamente tutti i video e mi sono fatta anche lì le tip con il trasparente e quindi poi sono andata ad attaccare appunto le loro etichette che fanno sul barattolino questo appunto è Red Velvet dopo tre passate è lucidato e poi faccio vedere come l'ho modificato perché è così veramente ingestibile non sarebbe neanche brutto come colore però tre passate è impensabile con la cliente davanti e poi farebbe uno spessore talmente alto che l'unghia si deforma poi nel tempo poi c'è chi mi ha detto proprio dopo che l'ho acquistato che ad alcuni è anche scolorito col sole quindi probabilmente proprio la sua densità troppo liquida ha questa problematica perché può succedere quindi comunque è un flop su tutti i fronti e niente quindi non è andata molto bene questo acquisto di passione l'unica cosa è che avevo c'era questo sconto e quindi l'ho comprato scontati perché se no veramente flop su flop su flop tranne i glitter che sono carini e le cose che ho già e quindi ho preso le riserve niente quindi vi lascio come sempre alcuni miei video del passato del presente e dell'ultra passato cioè l'altra gravidanza anche e spero appunto di esservi stata utile e chiudo qui il video perché è venuto molto molto lungo ma c'erano tante cosette da farvi vedere quindi vi mando un bacione questa volta vi saluto vi ricordo il codice sconto sul sito della Bonpretti e niente vi aspetto ai prossimi video sempre se volete potete iscrivervi al canale se volete potete andare sul mio canale telegram non vi rompo tanto le scatole e instagram tiktok e facebook facebook veramente lo uso pochissimo ormai però ci sono anche là se volete un bacio ciao